Si è spento mercoledì Raffaele Bruno detto Papele, un giovane papà che da qualche tempo lottava contro un brutto male. L'intera città di Casalnuovo è a lutto e lo ricorda con tantissimi messaggi sui social. Raffaele era un grande appassionato e tifoso del Napoli e non perdeva occasione per seguire la sua squadra del cuore. Si è spento ieri all'età di 29 anni nella clinica Villa dei Fiori ad Acerra. Domani i funerali. Nei giorni scorsi anche il capitano Lorenzo Insigne gli aveva voluto mandare un messaggio di forza nella sua lotta contro la malattia.